Ciao a tutti i video amatori di Senza Fissa Dimore, benvenuti in questo video dove volevo parlare un po' dell'attualità di oggi, siccome c'è un po' di gente che me lo chiede via mail, via whatsapp, amici italiani, rispondo un po' a tutti con questo video Allora, ad oggi, che oggi è martedì, 19 gennaio, scusate da due giorni è entrato in vigore il coprifuoco alle 6 del pomeriggio è stato alle 8 della sera dal 15 dicembre se non erro, 16 dicembre in Francia non c'è nessuna restrizione di movimento, non c'è il perimetro non c'è un perimetro in cui voi potete spostare, non c'è un orario, non ci sono ore di stare esterno sostanzialmente voi potete andare dappertutto in Francia, in tutte le regioni spostamenti tra regioni, spostamenti da nord a sud, su tutto il territorio l'unica cosa che hanno ristretto è stato appunto l'orario del coprifuoco coprifuoco che è permesso violare con un'attestazione che ne giustifichi appunto gli spostamenti, per lavoro, per i soliti motivi, non viene da dire i ristoranti bar seguono chiusi e anche le piste da sci, ma non tutte ci sono dei certi tipologie che possono aprire io sono vicino al confine francese e qui si soffre un po' del fatto che al di là sono vicino al confine franco-spagnolo, scusate e si soffre un po' che al di là, soffrono un po' i commercianti perché al di là del confine invece i bar e i ristoranti sono aperti in Spagna e sono aperti anche le piste da sci quello che è più limitato sono gli spostamenti che sono un po' più limitati ve lo scrivo meglio, mi informo e ve lo scrivo meglio per questo limitano gli spostamenti, hanno scelto di chiudere la frontiera dal lato francese dal lato spagnolo, non si può andare a venire sempre che voi non abbiate una seconda casa e niente, tutto il resto è aperto, le scuole sono aperte, qui non hanno mai chiuso le scuole e ne chiuderanno mai, almeno così questo è quello che dicono ufficialmente, le scuole appunto non vengono chiuse di nessun genere, hanno dato una data il 20 gennaio per la riapertura anche delle università e non c'è una data per la riapertura dei ristoranti che viene discusso settimanalmente, così come non c'è una data per la riapertura dei cinema, della cultura, né delle sale da sport e vi ringrazio per essere stati qui con me fino adesso e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e niente, alla prossima, al prossimo video, al prossimo aggiornamento